Buonasera a tutti qui dal Mico Milano Centro Congressi e la prima edizione come sapete di Campus Party in Italia. Siamo qui con Geronimo Pirro, direttore marketing di Amadeus. Io le chiedo subito che cosa fa Amadeus e qual è la mission della vostra azienda. Amadeus è l'azienda leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l'industria dei viaggi. Noi connettiamo l'offerta di soluzioni di viaggio, quindi tutte le compagnie aeree, compagnie di trasporto, catene alberghiere con il retail, sia esso online e fisico e quindi alla fine poi col consumatore finale. Siamo un'industria globale con 14.000 dipendenti in tutto il mondo e siamo concentrati e specializzati nell'industria dei viaggi. Ecco, per fare una domanda molto semplice. Come mai un'azienda così importante, così grossa, ha scelto strategicamente di investire su un evento come Campus Party Italia? È stata un'occasione estremamente interessante perché qui noi pensiamo che ci siano molte teste e molti cervelli al lavoro per prepararci al futuro. Noi siamo un'azienda di tecnologia, guardiamo sempre al futuro, abbiamo innovato per 30 anni e continuiamo a cercare ispirazione, a cercare di essere più avanti possibile nell'innovazione, nell'industria dei viaggi. E quindi questo qui è veramente un ambiente perfetto e estremamente stimolante per raccogliere informazioni e anche dare informazioni ai giovani che si approcciano al mondo del lavoro e che possono contribuire all'innovazione, al cambiamento, alla disruption nell'industria dei viaggi del futuro. Ecco, per la vostra azienda la parola talento, quale priorità ha? I talenti sono, come per tutte le aziende, un bottino fondamentale perché alla fine sono le persone che sviluppano i software, sono le persone che guidano le aziende e sono quelle che ci fanno crescere. Noi continuamente cerchiamo di investire e acquisire nuovi talenti che ci permettono di mantenere la nostra posizione di leadership. Ecco, a questo proposito la vostra azienda ha aderito al Campus Party aprendo una vera e propria Call for Ideas. Ce ne parla di cosa si tratta e come avete strutturato la vostra call? La Call for Ideas è una delle iniziative messe in piedi da Campus Party, molto interessante perché era di fatto la possibilità di lanciare una sfida ai partecipanti, quindi a questa miriade di ragazzi, su un'idea che noi riteniamo importante per il nostro settore. Quello che abbiamo fatto è che abbiamo sfidato i Campuseros nel pensare e ideare il design, il modello di business dell'agenzia dei viaggi del futuro. Le agenzie dei viaggi sono in continua evoluzione, come il mondo dei viaggi in generale. C'è un trend di spostamento verso l'online e quindi del fai-da-te, però in realtà noi vediamo anche un trend molto interessante in cui si è livellato questo spostamento. Ormai c'è un 50% di prenotazioni che vengono fatte attraverso canali tradizionali e agenzie di viaggi, un 50% che viene fatto online e vogliamo dare gli strumenti alle agenzie di viaggio per essere più innovative possibile e per dare più valore possibile a queste nuove generazioni i cui bisogni cambiano e che avranno bisogno di più tecnologia possibile e innovazione possibile per essere attratte all'interno del modello dell'agenzia. Io ringrazio Geronimo Pirro, direttore marketing di Amadeus, per la disponibilità e auguro un buon Campus Party Italia. Continuate a seguirci sui canali ufficiali di Campus Party e di Social Reporters con gli hashtag CPIT1 e Social Reporters. Grazie mille, buon Campus. Grazie.